E come abbiamo detto siamo a Lucerna con Zero Race, la prima gara di veicoli elettrici attorno al mondo e chiaramente l'organizzatore e direttore di gara non può essere l'altra persona che Lewis Palmer che è stata la prima persona al mondo a fare il giro del mondo con un'auto solare che era il Solar Taxi e noi abbiamo fatto tempo fa un'intervista con lui, adesso lo ritroviamo qua in veste di direttore gara Ciao, ti presento al pubblico italiani, dico che sei la prima persona che ha fatto il giro del mondo con il Solar Taxi e che abbiamo fatto l'intervista con lui qualche anno fa e adesso cambiate le regole e sei direttore del giro e organizzatore del giro Buongiorno E' meglio in inglese per te? Si, in inglese è meglio Ok, prima di ringrazio, perché è molto difficile organizzare qualcosa così è molto caro, lo so molto bene e in mia opinion credo che può essere il nuovo Paris-Dakar perché mi ricordo che il primo Paris-Dakar aveva solo 3 o 4 auto e 2 o 3 motocicli e non più Esatto, è quello che voglio fare Non è una raccoglia all'intervista La differenza per il Paris-Dakar è probabilmente che andiamo da una città a un'altra In ogni città vi mostre le auto al pubblico quindi tutti li vedono E non è riguardo Il giro non è quello che è più veloce ma il giro è quello che ha il migliorno quindi giudiamo il design la popolazione la sicurezza la sicurezza la sicurezza e molti altri punti quindi non stiamo spedendo E' ovviamente è un tipo di raccoglie è un tipo di filosofia è chiaro è un tipo di raccoglie è molto interessante al primo la distanza che bisogna fare ogni auto al minimo per partecipare in questa raccoglie perché è forte per i elettrici e anche è molto interessante che dare la partecipazione al pubblico perché puoi dare il voto per vedere chi è più simpatico o meno esatto il pubblico vota oggi questo pubblico non sta votando ma per esempio domani o dopo domani andremo a un paese che abbiamo invitato le scuole e le scuole votaranno sul design dopo il tuo tassi e il tuo tour del mondo quali sono la più importante esperienza di queste cose interessanti? c'è un messaggio molto importante di tutto interesse guardate quanto sono interessanti tutti vogliono vedere questi vehicoli tutti vogliono comprare questi vehicoli tutti vengono tutti supportano questo è qualcosa bellissimo e anche noi vorremmo essere vicino la cera della cera con la possibilità e ho chiesto e faccio un intervento con tutti i partecipanti e vorremmo vedere i video durante la cera perché è interessante per noi sì dobbiamo discutere come fare come fare un video da Cina a Europa ma sicuramente troviamo un modo grazie è un piacere per noi qui in questa buona città come Lucerne è la tua città grazie grazie prego grazie